La Rock'n'Roll of Fame ha annunciato ufficialmente i nomi degli artisti che verranno ammessi per la classe 2018 durante la cerimonia che si terrà il prossimo 14 aprile alla Public Hall di Cleveland. Questi i nomi della magnifica Cinquina, Bon Jovi, Dire Straits, Modi Blues, Cars e Nina Simone. Come da regolamento possono essere ammessi nella Rock'n'Roll of Fame solo gli artisti il cui primo album o singolo sia stato pubblicato almeno 25 anni prima. Non ce l'hanno fatta i Radio Edo che nella lista dei candidati a poter ricevere l'onorificenza erano gli unici ad essere nel loro primo anno 501 elegibilità. Tra gli eletti, solo i Bon Jovi hanno iniziato la loro attività dopo gli anni 70. Tra gli altri candidati di quest'anno esclusi, anche Raja Gainst Temachine, Kate Bush, De Pekemo de Judas Priest, Eurythmics, LL Cooli Lunga, MC5. Ha dichiarato, avuta la notizia, il tastierista dei Bon Jovi David Bryan, è un miracolo natalizio. Eravamo ragazzi che vivevano il sogno, salivamo su un bus senza vere garanzie. Ci dicevamo, andiamo e proviamo a realizzare il sogno. E lo abbiamo fatto. Il cantante dei modi blues Justina Iward invece dice, Il giorno prima di averlo saputo, non me ne poteva fregare di meno. Sabato invece pensavo, Vov, è fantastico. Sono molto grato alla Rock'n'Roll o l'ho fame per due cose, per aver creato il Tempio Supremo di un qualcosa che mi ha dato una gioia infinita fin da quando ero un ragazzino. La seconda, è per averci inclusi dopo tutti questi anni. Grazie a tutti.